Il nostro viaggio nel degrado di Imperia, continua guidato dalle segnalazioni continue dei telespettatori, questa volta l'obiettivo delle nostre telecamere è stato richiamato a Doneglia, nella zona di Castelvecchio, una delle porte della città. In via Andreoli, la bretella che collega via nazionale e largine sinistro, oltre all'asfalto, pericolosamente sconnesso, ci sono erbacce che crescono alte sul marciapiede. Per non parlare del vicino rio Oliveto, dove l'erba alta favorisce la presenza di topi e bisce che ogni tanto fanno capolino sulla strada. Buche e tombini sconnessi, vera trappola per moto e biciclette in via 4 Novembre e via Issel. Non va meglio in via Spontone, dove troviamo nuovamente erbacce che crescono fiorenti sui marciapiedi, lungo i quali si trovano anche regali lasciati da cani accompagnati da padroni, evidentemente maleducati. Discorso simile si può fare anche per via Argine Sinistro. Di nuovo asfalto sconnesso, invece, in via Nobel, attraversa fra via Garessio e l'Argine Sinistro e ancora nella rotonda delle carceri. Il viaggio, purtroppo, è destinato a proseguire.